Non è andata giù al sindaco dell'Aquila Massimo Cialente che le critiche sui fannulloni in comune fossero state mosse dall'assessore della sua stessa maggioranza. E così all'indomani il sindaco dell'Aquila ha ritirato le deleghe all'assessore dell'Italia dei Valori, Lelio De Santis. C'è stata proprio ieri una conferenza stampa dell'IDV con a capo l'ormai ex assessore che diceva che per l'Italia dei Valori la misura era colma, o i dirigenti e i dipendenti fanno il proprio dovere o l'amministrazione del sindaco dovranno prendere misure adeguate come ruotare i responsabili dei settori o tagliare i premi di produzione. Non aveva fatto sconti l'ex assessore al bilancio del comune dell'Aquila Lelio De Santis che pur riconoscendo la buona volontà e l'onestà di tanti dipendenti si era scagliato contro quelli che di lavorare proprio non ne hanno voglia o lo fanno male. Benvengano aveva detto le azioni della magistratura per fare chiarezza e pulizia ma non si può per questo bloccare un comune che ha di fronte una sfida enorme come quella della ricostruzione aveva detto l'ex assessore al bilancio Lelio De Santis.